Dalle ore 9 del 21 febbraio 2022 alle ore 18 del 21 aprile 2022 potranno essere inoltrate le stanze per accedere al bando pubblicato sul sito del comune di San Cataldo per ottenere il bonus affitto relativo al 2020. Bisognerà accedere all'apposita piattaforma ed effettuare l'accreditamento dei dati e legati sul portale. Sono richieste per la compilazione e le credenziali speed sistema pubblico di identità digitale di livello 2, cioè per le persone fisiche, ECE, ovvero la carta di identità elettronica. E' comunque possibile rivolgersi ai comuni, caffaderenti e sindacati inquilini, accreditati per ulteriore assistenza. L'annuncio sui social è arrivato dal primo cittadino sancataldese Gioacchino Comparato e dall'assessore Marco Andaloro. Si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini di presentazione delle stanze per ottenere il bonus affitto per l'anno 2020, dicono. Un'importante opportunità che garantisce la difesa del diritto ad un'abitazione per tutti i cittadini. Siamo lieti che finalmente, dopo due anni, si sia sbloccato un fondo utile per i nostri concittadini. Come amministrazione proseguono? Faremo il possibile per far conoscere le opportunità che arrivano anche dallo Stato e dalla Regione, in particolar modo quelle destinate alle fasce più deboli e a chi ha subito la crisi dovuta alla pandemia. Nel Bando Pubblico, legge 9 dicembre 1998, numero 43, articolo 11, Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso delle Abitazioni in Locazione, determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020, vengono indicati i requisiti per accedere al beneficio, i motivi di esclusione, le fasce di reddito, le modalità di presentazione delle stanze con i documenti da inserire e di determinazione ed erogazione dei contributi.